Io sono molto contento stamani perché vedere che l'iniziativa che abbiamo assunto ha portato a questo momento, da ieri mattina, a prenotarsi, pensate, più di 65.000 persone dimostra l'attesa ma anche la capacità del sistema di dare risposte. È soddisfatto il presidente della regione toscana nonostante ammetta che qualche rallentamento nelle prenotazioni per i vaccini anti-covid c'è stato. Ieri poteva richiedere la vaccinazione il gruppo che racchiude persone di età compresa tra i 65 e i 69 anni. Ma a tentare i clic sul portale e a congestionare il sito sono stati anche molti sessantenni che potranno invece richiedere la vaccinazione a partire dalla prossima settimana. Ieri sono state 27.000 le vaccinazioni effettuate. Un ritmo tanto caro al generale Figliuolo di Cegiani annunciando il suo arrivo in terra toscana il 18 e 19 maggio. Un ottimo lavoro è stato fatto anche a Capraia, da oggi isola covid free. Soddisfazione anche per l'apertura del secondo centro hub a Prato e domani il secondo piano del Mandala Forum. Sabato toccherà l'hub di Scandicci e di Bagno a Ripoli e lunedì a quello di Pontassieve. I ritmi sono quindi quelli giusti. Portare la vaccinazione a un livello di immunità di gregge entro il 30 di settembre, i primi giorni di ottobre. La cosa importante è che quando noi abbiamo visto l'anno scorso la risalita del virus sembrava scomparso, in realtà era come in letargo, poi è ritornato con tutta la sua intensità e la sua forza. Ovvero gli ultimi giorni di settembre, i primi giorni di ottobre noi dobbiamo essere pronti.